Ah, che vorremmo? Sì Molto bene Intanto vorremmo dei murazzi con delle telecamere poste molto più in alto perché le persone alte se no Siamo incinocchiate Come si chiamano queste ossa qua? Abbiamo ancora un minuto Però siamo di nuovo Vogliamo dei murazzi come questi con la spiaggia, con l'esdraio Murazzi in cui si possa passaggiare tranquilli Senza troppi cacchino Con il succo di frutta Con le papere Guarda a mangiare le papere dalla spiaggia Anche per esempio Bellissimo bucolico, magico Dei gatti Sì Un po' di gatti Gatti, papere Dei fiori Mancano dei fiori Delle fioriere Delle belle fioriere Begogne Le begogne In questa stagione sono una meraviglia Specialmente quelle grosse spiaggia che vanno Begogne Sotto di frutta Spiaggia Sì Murazzi camminosi in cui parlare Camminosi Spiedini E godersi la vita Aspetta E non mancarene quei ciurros Quei ciurros Quei ciurros che così Che si mangiano Sì Non so cosa sia Non va bene Non si chiamate sì Poi i waffer Abbassati 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 Gli schiedini di carne Il tipo sagra di paese come in Liguria Dove ti danno i micchettine Un micchettine Un micchettine Sì Per esempio E questo è ciò Basta Sì Ciao Sì 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 Sì